Sara Di Paolo, 40 anni, Partito Democratico. Perché vi siete candidati alle elezioni regionali? Sono le persone a cambiare le cose. Io penso che ciascuno di noi, ognuno nel proprio lavoro, nella propria attività quotidiana, nel volontariato, in famiglia, quando fa le proprie azioni per bene, dando un significato più ampio alla specificazione che sta facendo, in pratica fa politica. Penso che quella sia buona politica. Vorrei che questa buona politica iniziasse ad entrare a far parte anche della politica ufficiale. La sua priorità per la Liguria? La Liguria deve tornare ad essere una regione di serie A. Penso che abbia tutte le competenze, i talenti, gli asset per esserlo. I concetti di centro e di periferia, però, sono concetti dinamici, cioè cambiano nel tempo. E periferia è dove non si riesce ad arrivare. Allora noi abbiamo il più grande porto del Mediterraneo, abbiamo una storia industriale importante. non possiamo dare per scontato che rimanga per sempre. La priorità, dunque, è dotarsi di un piano strategico vero e concreto, fatto di azioni chiare e concrete, per tornare ad essere al centro. E iniziare anche a ragionare su una nuova identità economica del nostro territorio, che veda anche il turismo, la cultura e l'industria intelligente come protagonisti del nostro sviluppo economico. La sua priorità per le microimprese. Le microimprese sono il 95% delle imprese in Italia e impiegano quasi il 50% dei lavoratori. Questo avviene anche in Liguria. Quando parliamo di microimpresa, dobbiamo sempre ricordarci che il titolare dell'impresa, il datore di lavoro, è innanzitutto e soprattutto un lavoratore. Allora una regione amica delle microimprese deve partire da questa considerazione e iniziare a capovolgere il proprio punto di vista. Il lavoratore e imprenditore deve dedicare il proprio tempo a produrre i beni e i servizi che fanno parte della sua attività, conquistare nuovi clienti, fidelizzare i clienti che ha. Non può perdere il 70% del proprio tempo in adempimenti burocratici. Non possiamo pensare che faccia attività di formazione professionale in orari di lavoro. Una regione amica delle microimprese capovolge anche il tipo, diciamo, modifica i tipi di servizi che offre in ambito formativo, magari in orari che sono più comodi al piccolo imprenditore, all'artigiano, al commerciante. Attiva azioni di promozione nel territorio locale, in quello nazionale e internazionale che siano davvero efficaci e professionali. Non possiamo immaginare che il titolare di una microimpresa possa avere così tante competenze, e così tanto tempo per affrontare mercati nuovi e in particolare quelli internazionali. La microimpresa ha spesso anche un'altra caratteristica, cioè che è un'impresa familiare. Quindi la tenuta di un sistema economico, in questo caso, significa anche tenuta di un sistema sociale. Allora, una microimpresa che funziona e che genera lavoro, significa anche una famiglia che funziona e magari una famiglia che fa dei figli. Il suo primo impegno, se sarà eletto. Io mi occupo di comunicazione strategica, di marketing e di promozione del territorio. E quindi quello in cui mi piacerebbe impegnarmi è dotare la nostra regione di iniziative davvero efficaci e professionali per promuovere e valorizzare tutti quei giacimenti nascosti delle imprese, della produzione di beni e di servizi, dei talenti, delle professionalità che già ci sono. In particolare, penso ad alcune filiere. Noi siamo già eccellenze, riconosciuti a livello internazionale in alcune filiere, per esempio, delle nuove tecnologie piuttosto che dell'agroalimentare. E quindi mi piacerebbe riuscire a dare voce in maniera ancora più efficace a queste nostre grandi capacità. Lanci un tweet. Firmato il mio impegno per le microimprese di compartigianato. Un hashtag. Liguria delle micro.